I politici ogni giorno parlano di quanto sia importante vaccinarsi ed avere il Green Pass. Sono per il vaccino. Ma loro il Green Pass ce l'hanno? Ed è da vaccino? Non ho ancora il vaccino. Chi non ce l'hai fatto? Può metterci con un po' di paura, ci sta? Del vaccino? Ma come? Voi dovete convincere gli italiani a vaccinarvi? Certo, io sono per il vaccino. Abbiamo fatto un sondaggio tra i parlamentari. Tutti hanno il Green Pass, ma più di uno non ha fatto il vaccino. Posso chiederle se ha il Green Pass? Con il tampone sì. Con il tampone, quindi niente vaccino? No. Come mai? Scelta personale, non so, devo dirvi proprio tutti i miei fatti, non credo, no? Lei ha fatto il tampone? Ha fatto il tampone. E quindi il tampone non il vaccino, no? Il tampone ogni due giorni? Il tampone non il vaccino. Io con un tampone perché ho in corso gli accettamenti. Quindi non l'ha ancora fatto il vaccino. Però il Green Pass si tratta di un vaccino sperimentale. Altri invece si rifiutano con un imbarazzo sospetto. Il Green Pass è fatto apposta per non far dire quali di questi hai fatto. Ma come, tutti i parlamentari ce lo stanno dicendo e lei invoca la riservatezza. Voi continuate a chiederlo. Però ci fa riflesso, questa reticenza ci fa pensare che... Perché mai? Ce l'ha il Green Pass, onorevole? C'è l'ha il Green Pass, onorevole? Lei si è vaccinato? Oh, ci sono il telefono. Riassunto, su 70 parlamentari intervistati, 48 hanno il Green Pass da vaccino, 5 fanno solo i tamponi perché non vogliono vaccinarsi e 17 si sono rifiutati di risponderci. Tra questi c'è qualcuno che, preso in contropiede, si difende con paragoni strampalati. Se io ti rispondo a questa domanda, tu rispondi a delle mie domande sulla tua salute? Se vuole, sì. Oh, va bene, ok. Hai mai abortito? E c'è persino chi, pur di non risponderci, mette in dubbio la propria identità. Lei si ricorda che nel 2014 ha firmato una proposta di legge per non rendere obbligatori vaccini per il personale militare? L'abbiamo ritrovata, lei è il filmatario. Che non se lo ricorda? Come mi chiamo io? Insomma, quando si dice una reazione avversa. Aprendo à Drive Che non ti rispondi una proposta di legge per non si villoare, lei è la proposta di legge sulle che rimbligatori, insomma pallidi di legge per il���ufa e del corpo che compacciano. Grazie a tutti jeni